Allora, cari amici telespettatori, siamo quest'oggi ben contenti che l'Italia sia andata in finale, ha finito i rigori, quindi abbiamo battuto gli spagnoli, però in questi giorni di stilistezza sicuramente qualche angelo da lassù ci ha aiutati e secondo me quell'angelo è stata Raffaella perché siamo ancora visibilmente scorsi dalla sua scomparsa. E quindi, come ho detto nel video precedente in diretta, amici, è finita un'epoca di gioia e di televisione vera, è finita quella voglia di stupire e di fare allegria che non ci sarà mai più perché con Raffaella ci aspetto un pezzo della nostra storia e della nostra memoria. Comunque i ragazzi hanno giocato molto bene, se lo sono meritati di andare in finale e speriamo che finisca bene. Un abbraccio veramente a tutti e forza azzurri di cuore sperando in un'impresa che manca ormai da 53 anni. Un abbraccio e cerchiamo di essere forti, noi stiamo uniti e vinceremo. Un abbraccio e cerchiamo di essere forti, noi stiamo uniti e siedo ultimamente. Grazie a tutti.